Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger e Hybrid, for freedom followers. Nuova tecnologia e Hybrid con cambio automatico, select terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata, con incentivi Jeep. Prova la nuova e Hybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it Eloquente la tracklist di Tedua per questo paradiso che poi alla fine è un completamento di quello che è il concept principale ed è una scelta coraggiosa e anche rischiosa perché tu vai a mettere le tracce a fondo disco quindi diciamo che non è proprio intuitivo a livello tecnico arrivare alle tracce e quindi è un discorso proprio di completamente maturazione che l'artista vuole attuare su un disco che è frutto di un lungo percorso quindi non lo definirei un vero e proprio nuovo disco ma sicuramente sono i featuring quelli che destano più scalpore e che fanno in qualche modo riflettere tanto che Tedua nell'annuncio dice l'ultima volta la siete presi con i feat di Baby Gang e Yugi e sappiamo tutti com'è finita ecco com'è finita diciamo che i numeri danno sempre ragione a questi artisti però poi bisogna vedere effettivamente i fan quanto hanno apprezzato i featuring o meno oppure appunto il concept completo comunque Angelina Mango, Angelo Custode che va a chiudere questo disco è sicuramente una delle tracce che mi desta più curiosità e mi fa appunto riflettere chissà l'Angelina che forma avrà se farà una strofa, se farà solo ritornello se è una traccia scritta proprio in due o se è semplicemente una collaborazione di facciata dall'altra parte abbiamo Annalisa nella traccia Beatrice comunque due donne importanti per la scena musicale le uniche due donne che fanno il featuring di questo disco che comunque vanno a coprire due tracce appunto Beatrice e Angelo Custode Beatrice in fondo è l'Angelo Custode in qualche modo se vogliamo e l'Angelo Custode potrebbe essere Beatrice quindi faccia della stessa medaglia quasi comunque sicuramente sono due nomi nel panorama pop femminile tra i più importanti se non i più importanti e rilevanti quindi una scelta cioè anche di convenienza che però secondo me non è stata messa lì per convenienza anzi è un disco che secondo me poteva essere giocato molto diversamente se si voleva fare un discorso di quel tipo dopodiché abbiamo il featuring con Tony Boy al limite abbiamo il featuring con Capoplazza che già abbiamo ascoltato e poi nella traccia 22 Jolly Roger Izzy Dism Brash e What's Te insomma tutta la gang tutta la cricca riunita un disco che Tedua insomma sta facendo capire che è un po' la sua espressione completa e che però secondo me è un incipit a progetti futuri che lo vedranno completamente restaurato cioè secondo me lui non ha voluto fare proprio un nuovo disco a sé proprio perché sentiva di dover completare un percorso un ciclo ma sicuramente insomma questo completamento non è una o due tracce ne sono ben tre quattro cinque sei sette otto e anche quando ho parlato della nuova riedizione del disco di Noiz Salmo ho detto non ce n'era bisogno di un ripack però c'è da dire che il Noiz ha sorpreso tutti proprio mostrando a tratto un'attitudine nuova di pacca cioè queste cinque tracce valgono quanto tutto il disco precedente e credo che sarà in qualche modo anche questo così quindi insomma ci sarà da divertirsi e ne vedremo delle belle per quanto riguarda il discorso tedua Wild Bandana 24 maggio sarà tutto tutto fuori e noi siamo qui segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente prime ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music